Presidente Meloni si è superata su un altro punto, quando ha avuto l'audacia di affermare che io preferisco piuttosto dimettermi, piuttosto che andare in Europa, allo stesso modo in cui sono andato io. È inutile ricordarle che il mio governo è andato in Europa, ha riportato 209 miliardi. Concluda. Lei non ha portato nulla, non ha portato nulla e in compenso rischia di farci vendere i soldi al PNRR. Però anche questa volta non rispondo all'insulto, rispondo con parole che non sono mie. L'Italia esce in piedi, riconosco a Conte di essersi battuto. Sono parole pronunciate nel 2020. Onorevole deve concludere. Ho avverrita deputata il suo partito Fratelli d'Italia, che uno scatto di noestà intellettuale era costretto a riconoscere i risultati del mio governo ottenuti da Bruxelles. Sa come si chiamava? Giorgia Meloni. L'Italia esce in piedi, riconosco a Conte di essersi battuto. Complimenti per l'ennesimo volta faccia.